Ben trovati a tutti, ci ritroviamo per meditare insieme oggi non tanto sulla parola che ci accompagnerà domenica ma proprio sul fatto del perché andiamo a messa. Ovvio che le risposte sono tantissime ma una risposta la possiamo trovare in questo fatto, un fatto che ho vissuto io personalmente. Dieci anni fa un giorno mi telefona il presidente del CAI di Fossano, il paese da dove vengo e mi dice verresti a celebrare una messa nel posto più bello del mondo? E dico certo che vengo a celebrare la messa nel posto più bello del mondo, per il CAI di Fossano il posto più bello del mondo è un poggio panoramico, un'ora, un'ora e mezza di cammino, è un bellissimo balcone panoramico sulla pianura, si vede Cuneo, Fossano, Savigliano, su, su fino a Superga, Torino e il giro di montagne, del Viso, Rocciamelone fino al Cervino e a Rosa. È un balcone che è una meraviglia e per questo è stato denominato il posto più bello del mondo e allora ho detto certo che vengo a celebrare al posto più bello del mondo. Quando? Il 12 di novembre. Benissimo, il 12 di novembre salgo in macchina e piove. Andiamo, 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 arriviamo a dove posiamo la macchina per iniziare a camminare e inizia a nevicare. Facciamo la nostra salita su, sotto la neve, arriviamo al luogo stabilito e ha smesso di nevicare, c'era la nebbia, non si vedeva niente. Costruiamo un altare con la neve, un bel cubo di neve e inizio a celebrare. Nebbia fitta che manco vedevo le persone davanti a me e dico, dopo il seno di croce, benvenuti a tutti, siamo qui nel posto più bello del mondo. E dopo aver detto questo dico, ma che posto più bello del mondo? Ma questo è un postaccio. In realtà, e poi non l'ho più detto per tutta la messa, però durante la messa a un certo punto ho avuto un'illuminazione e cioè vi sono detto, non siamo in un altro posto, siamo proprio all'alpeta di Ritana, cioè siamo proprio in in quel balcone che quando è limpido hai davanti una meraviglia. E siamo proprio qui e lì davanti c'è proprio Cuneo, Fossano, Savigliano, Torino, Il Viso, Etrosa e tutto lì, tutto lì non è che non c'è. E solo che oggi c'è la nebbia, non si vede e dunque bisogna crederci. Bellissimo. Secondo me quella è stata una folgorazione. Tante volte nella vita le cose sono proprio lì davanti, ma c'è la nebbia, non le vedi. Succede a volte nelle relazioni. Non è che quella persona è un'altra, è quella persona a cui vuoi bene, ma c'è stato un litigio e c'è la nebbia, non lo vedi, ci devi credere. Tuo figlio arriva a 15 anni e inizia a cambiare parecchio e non è un altro figlio, è proprio sempre tuo figlio, ma c'è un po' di nebbia e bisogna crederci. Nella vita quante volte noi dobbiamo crederci alla vita, anche quando immediatamente non vediamo proprio le cose belle, ma ci sono, bisogna crederci. Bene, io penso che alla messa, ai riti, si va per allenare gli occhi a crederci, a vedere oltre la nebbia, a vedere più di quel che si vede. Allora, per aiutarci in questo, guardiamo questo bellissimo dipinto famoso, viandante sul mare di nebbia di Friedrich, questo dipinto è estremamente interessante perché se noi lo guardiamo, vediamo un signore che ha fatto una lunga camminata, è arrivato in cima e adesso sta guardando, non sta semplicemente ammirando, ha lo sguardo fisso avanti, oltre, potremmo quasi dire che in quel mare di nebbia sta cercando qualcosa e in una posizione, guardate che bello, sembra che stia ancora camminando, vedete ha un piede davanti all'altro, è appoggiato al bastone, è in piedi e certo che non può camminare perché è arrivato in cima, ma in realtà ora lui è fermo e cammina con lo sguardo, cioè con lo sguardo sta andando a cercare qualcosa laggiù nella nebbia, bellissimo, la bellezza di questo quadro è lo sguardo di questo tale, è uno sguardo che non vediamo ma immaginiamo, che potremmo dire uno sguardo in cammino, sta cercando ed è interessante perché davanti a noi in primo piano vediamo roccia nera, lui nero e tutto il resto è luminoso, anzi al fondo, sopra la montagna c'è un bagliore rosa perché è un'alba, si intravede una luce da dietro, un sole che sorge e dunque questo tale sta guardando oltre, sta guardando dentro, sta cercando, vede di più di quel che si vede, di per sé verrebbe da dire ma guarda che giornate, c'è solo un mare di nebbia, ma lui ha uno sguardo così attento che sicuramente ci vede qualcosa ed è interessante che è piantato su questo nero, questa roccia nera ed è tutto proteso verso questa luce, è piantato nel limite e proteso nell'infinito, ma che meraviglia, è stato detto che l'uomo è un promontorio sull'infinito, bene credo che a messa, passiamo tre quarti d'ora a fare questo, a guardare più di quel che si vede, se guardi proprio solo quel che si vede è poco ma c'è molto di più, c'è solo un pezzo di pane, c'è molto di più, c'è solo qualcosa che senti leggere, è Dio stesso che parla, c'è infinitamente di più, c'è una presenza di infinito lì dove sei e tu sei piantato nei tuoi limiti e cerchi di intravedere l'infinito che ti accompagna e questo credo che sia davvero fondamentale ed è bello questo signore piantato su questa roccia che si protende oltre, potrebbe essere una bella descrizione pittorica di cosa vuol dire esistere, ex-sistere, che è un venir fuori continuo, noi andiamo a messa per incontrare l'infinito nella nostra concretezza e provare a venire fuori, a tirar fuori il meglio di noi, a riprendere la voglia di guardare oltre, di avere un altro sguardo quando torniamo a casa, di credere alla vita anche quando è annebbiata e per questo esistere, essere ancora una volta noi. Nel Nuovo Testamento c'è un versetto che dice c'è ancora qualcuno su questa terra che sta in piedi come se vedesse l'infinito? Ecco, a messa andiamo per allenarci a essere così e poi vivere nella concretezza, a volte anche molto banale della vita, così, stare in piedi come se vedessimo l'infinito, perché nella messa ci viene sempre detto che l'infinito si fa vicino a te, Dio ti è lì accanto, a portata di mano. Grazie a tutti.